buongiorno alla vigilia della solennità dell'immacolata la liturgia ci propone il capitolo 5 del vanzello di luca dal versetto 17 al 26 un episodio di guarigione che gesù compie mentre sta insegnando all'interno di una casa attorniato da tantissima gente inclusi i farisei e maestri della legge che lo ascoltano cercando sempre di coglierlo in fallo la gente è così numerosa che alcuni uomini che vorrebbero portare davanti a lui un uomo paralizzato su un lettuccio non trovano il modo di arrivarci e qui cogliamo un primo dato che la parola di di oggi ci regala come perla preziosa questi uomini infatti si inventano un modo originale per poter raggiungere il maestro dal quale sperano di avere la grazia della guarigione del loro amico e così salgono sul tetto tolgono le tegole e dal buco fanno calar giù il lettuccio davanti a gesù il quale elogia la loro fede e proprio a partire dalla loro fede usa le sue parole di salvezza e compie i segni della guarigione notiamo allora innanzitutto come sia importante la fede della comunità la chiesa che appunto comunità di discepoli diventa tante volte sostegno necessario per chi è così paralizzato da non potere neanche più pregare da non sapere più neanche chiedere egli da solo aiuto al signore non stanchiamoci quindi di insistere di bussare alla porta di dio anche a nome dei fratelli che stanno facendo più fatica e poi vediamo quello che accade gesù compie sì i gesti di salvezza ma il primo è quello del perdono dei peccati solo successivamente egli guarisce quest'uomo e questo ci porta a comprendere l'ordine gerarchico di quanto è più importante gesù sa molto bene che le guarigioni fisiche aiutano ma sono parziali provvisorie durano solo per un certo tempo la vita umana è fatta di questo deve anche passare per la morte fisica ben più profondo ben più essenziale è il suo compito di guarire i malati la grazia che viene dal perdono che trasforma la profondità dell'essere umano e dona la vita eterna per questo i gesti esteriori di guarigione sono sempre un'opportunità per accorgerci che c'è qualcuno di più grande presente fra noi gesù è il figlio di dio che si fa figlio dell'uomo per poter donare il perdono dei peccati a tutti anche per noi oggi allora come chiesa è importante sostenere chi soffre nel fisico aiutarli ad affrontare la malattia sostenere nella fragilità ma mostrando sempre che c'è una salvezza che va oltre e che la gioia si radica nel perdono gratuito dei peccati che viene da dio buona giornata